Sono abbastanza in ritardo e fuori piove Si prospetta un bellissimo inizio di settimana Bene, è stata una giornata molto intensa come ogni lunedì Ho fatto le mie sette ore e mezza di lezione filata Giusto così tranquille E poi un'oretta e mezza non lo studio per rivedere almeno un'ora e mezza di lezione che ho fatto oggi Perché vedete perché lo fai Perché così mi trovo un po' più libero durante il resto della settimana Tanto oggi sarei morto comunque Meglio morire adesso dopo aver dato tutto Che non lasciarsi quella riserva e dire ma sì, devo fare di più Comunque per oggi basta Io adesso sto avviando Tencini Impact E sarò quest'oretta prima di cena giocando E dopodichè mangerò e penso che continuerò a giocare magari online con i miei amici Con un giocassino anche oggi siamo in ritardo E per questo c'è un bordello studio perché sta penso spugando le formine Nel video oggi prevede tre ore di esercitazione e Tutto il resto poi andiamo in aula studio Arriviamo in esercitazione e fare altre tre ore di esercitazione di AY Cioè riscrivermi gli appunti e tutto Cioè riscrivermi gli appunti e tutto Bene direi che anche la giornata di oggi a livello di studio Si è conclusa ma anche penso a livello di qualsiasi altro che non sia buttarsi sul divano Mangiare e giocare a Tencini Impact Bene come potete vedere sono a casa E quello che faccio, non scherzo, non è che lo faccio ogni volta perché non sempre mi porto il pranzo Non mi porto il pranzo, non mi porto il pranzo, dipende Però ovviamente quando torno a casa devo lavare la vaschetta del pranzo Per fortuna che dispongo di una lavastoviglie Il martedì è molto pesante di solito perché fino alla settimana scorsa avevo riunione con il mio team Da questo martedì in poi, questa settimana la riunione non è appunto più il martedì come avete potuto vedere ma sarà il giovedì E magari anche un filo meglio perché in questo modo io ho finito praticamente come avete visto alle 11.30 L'esercitazione, mi sono fiondato in aula studio, mi sono rivisto una parte dell'esercitazione, ho mangiato Ho finito di rivedere un'altra parte dell'esercitazione, spoiler, non ho finito, mi toccherà continuare ancora domani E poi mi sono fatto tre ore di lezione di ieri Così diciamo che fortunatamente ho chiuso la giornata di ieri Non ho lezioni che appunto ho fatto ieri da recuperare Le mie serate sono piuttosto anonime quindi ve le risparmio Direi di passare direttamente a domani Il menu prevede un'ora e mezza di lezione diciamo classica, un'ora e mezza ci troviamo per un progetto E i professori sono a disposizione per risponderci, per aggiornarci E anzi noi aggiornare loro sul sviluppo del nostro progetto di gruppo Dopodiché palestra perché sono riuscito a prenotare per mercoledì in palestra con il CUS a Torino In studente abbiamo due ingressi gratis a settimana Poi presumo di nuovo lo studio oppure non so se studierò qua a casa Comunque pomeriggio studio e devo rivedermi la lezione di domani Nonché devo finire di fare quello che non ho finito oggi di esercitazione E la mattina visto che la lezione inizia alle 10 mi sveglierò come al solito per le 8, 8 e mezza E finirò di fare una roba per un altro progetto Insomma sono un po' tazzente con questi progetti ma si va avanti E' più o meno le 8 e mezza, 9 e mezza di mattina E' mercoledì, ho lezione alle 10 Sfrutto quest'oretta scarsa prima di andare a lezione Per non studiare ma rivedere una cosa Per conto di un progetto che devo fare in gruppo Questo semestre e intanto faccio colazione con una bellissima tazza Che mi hanno dato gli amici ordinariamente E i biscotti di gran cereale che sono qualcosa di assurdo Una cosa che trovo molto utile che mi è stata insegnata a barra tramandata qualche tempo fa E' proprio questa Non sempre ma non aspettate per forza di fare la colazione così un'ora Cioè perché sennò vi dovete svegliare 16 anni prima di voi iniziare a studiare Se magari volete dormire un po' di più legittimamente Svegliatevi con tutta calma Cercate di non essere troppo incoglioniti E semplicemente mettetevi con la tazza di te, i biscotti, il computer E iniziate a fare qualcosa Dovete partire con lo studio della fusione atomica Dovete semplicemente iniziare a fare qualcosa Come inizierò a fare io adesso Quindi direi di non perdere altro tempo Prima di andare all'università mi tocca andare a prendere il pranzo Pranzo preso Ora mi dirigo verso l'università E' proprio una bella giornata oggi Speriamo che regga Che non faccia schifo dopo Che non faccia schifo io In realtà Voglio essere meteoropatico al contrario Perché Nel giornate belle così vorrei fare totalmente altro Ho preso il pranzo Mangerò nella posa tra una lezione e l'altra Perché poi devo andare in palestra E visto che esco a luna Se mangio a luna e mezza E poi vado in palestra alle due E praticamente è testato Che io sbocco Quindi ho avuto questo escamotage Per cercare un po' di coniugare le cose Spirito di adattamento Signori Non per i portafogli Perché questa focaccia mi è costata 3 euro Io non lo sapevo L'ho sempre pagata 2 Quindi ringrazio il supermercato di casa In fronte casa Per avermi fatto questo scammino E vabbè E' una bella giornata Quindi poco male Uno specchio che forse dovrei pulire E sono andato a casa ma praticamente Ho preso il borsone da la destra E scappo di nuovo fuori Ok sono le 4 e qualcosa Io sono tornato alla colestra Ho preso un caffè perché Altrimenti sarei morto Ecco la tazzina Faccio un attimo Magari mi rendo al volissimo Con della fantastica Bresa alla vegana E dopo che rivolgo in università Perché vado a farmi Insomma fino alle 7 O quando mi cacciano Mi vedo la lezione di oggi Dove tecnicamente Continuare l'esercitazione di ieri Vi dirò La lezione di oggi E' stata un po' confusionaria Quindi non lo so Non ho tanta voglia di rivederla L'esercitazione Devo svolgere un esercizio Diciamo per casa E quello mi va ancora di meno Perché non ho capito Una mazza di quello che devo fare Sarà un mercoledì Pomeriggio sera Molto Molto poco carino Ma E' anche questo Secondo me Quello che ci prendiamo Iscrivendoci all'università Niente Direi di non perdere un altro tempo Ebbene Io sono tornato finalmente a casa Sto morendo Oggi è stata una giornata Molto intensa Non Sembrava così all'inizio Ma poi effettivamente Tra valestra La studio con zero voglia E' diventato un po' così Però alla fine Ho visto l'elezione di oggi Non ho fatto l'esercitazione di ieri Perché uno non mi andava troppo Due Ho scoperto che ho dovuto fare altro Riguardo appunto All'elezione di oggi Che è degli esercizi Diciamo Allegati E quindi Vabbè Faccio direttamente tutto quello Non ne ho neanche finito Quindi praticamente Ho Tra virgolette in arretrato Rispetto a quello che avevo programmato ieri L'esercitazione di ieri E Finire questi esercizi Per cui mi sa che Una barra due Di queste mattine Prossime Dovrò svegliarmi un po' prima E ritagliarmi del tempo ulteriore Per Per fare queste cose Soprattutto questa esercitazione Perché vi giuro Non so Bene o male dove mettere le mani In vari punti In alcuni Lo so Ma in altri Comunque Niente Come al solito La mia giornata Finisce qui Praticamente La solita Cena Come è normale che sia È svago Ma adesso mi tocca pulire La doccia Perché non ho avuto tempo Di farlo prima E lo faccio Adesso non vi faccio vedere Il resto Perché altrimenti YouTube Mi demonetizza il video Entrando al capo Di avviare la fotocamera Ho testato Una bottiglia Vedro rotta E mi è fiscato Una goscia Dentro la schiena Che mi ha fatto Prendere un brito Assurdo Oltre a bagnare Perché ero in piccolo Bene Sono alle 8 Di sera Perché ti ritorno Dopo 12 ore a casa Ma la cosa bella È che ci ritorno Per 15 secondi Tempo di poggiare lo zaino E di lavare il portavranzo E di ruotare la C'è ancora la porraccia Che devo praticamente Riuscire Quindi Molto bello Devo comunque dire Che nonostante La freneticità La funesia Di questo periodo Di queste Tante cose che vado a fare Mi sento Bene come spesso Perché sono A un livello Che posso sopportare Dimensionate Diciamo in maniera Adeguata Dopo tanto tempo Di periodo Giassati a Non sapere che fare Annagiarci O Passate a impazzire Sono arrivato A un equilibrio Non voluto 5 anni Però Sono soddisfatto Quindi Spero che Per dirgli molto Questo Stessa cosa Insomma Di non cadere Il giorno Venerdì Questo è l'ultimo giorno Vado a fare il weekend Non torno Volentamente a casa Per lo risparmio E andrò In università In realtà Il venerdì Mi riesco già a dedicarmi A vari assignment E oggetti Per come da fare Devo andare a vedere Un po' di lezioni Su situazioni miste Alla settimana Che è stata Il massimo Del riposo Per cui Io ho detto Vado in aula studio Quindi Per Conerenza Compatibilità Nel senso Che Devo andare a vedere lezioni Arrivederli A casa non ci riesco Non mi distrago Mentre se devo Immergermi In un progetto Ma vivere su questa Congiunta Per due ore e mezza O sul CAD Cosa per cui Non ti viene la distanza Che hai messo le lezioni Che comunque Ti metti Fai le pause Ogni Mezz'ora O Quindi Molte cose Quindi Non è un po' altro Dico Un po' dopo Rispetto al studio Però E' un po' di Riprendere un'altra loretta è qualcosa bene sono le 7 io sono tornato a casa da questa bella riunione fuori porta direi che di risparmio come ho detto le giornate di sabato e domenica perché il weekend tecnicamente sto a casa devo andare in palestra al limite esco magari la sera e il pomeriggio con un po' di gente però purtroppo abitando comunque in zona politecnica non mi muovo anche la palestra è qua vicino quindi non si vede molto pochino però si tratta di giornate piuttosto impostate in maniera ripetitiva ma spero che comunque questo video possa essere divertito, un esperimento per vedere un po' se sono in grado di fare questi vlog se vedrò un buon numero di like e di commenti vi proporrò questo format magari una volta al mese una volta al mese detto ciò io vi invito a lasciare un mi piace appunto a scrivere al canale non a guardare le ulteriori aggiornamenti a scrivermi su Instagram e direi che ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.